L'iniziativa si è aperta con la svelatura della nona stazione marmorea Gesù Cade per la terza volta della via Crucis nel parco Cerriolo. Nell'ambito della manifestazione promossa dal comune di Custonaci sono state organizzate diverse iniziative, tra talk show, concerti, momenti religiosi, degustazioni e tra gli appuntamenti clou c'è stata la cerimonia di consegna del premio Riviera dei Marmi, che si è tenuta nei giardini della villa comunale. In occasione del cinquantesimo anniversario del premio istituito dal comune di Custonaci negli anni 60, l'amministrazione della città dei Marmi, il sindaco Giuseppe Bica, ha voluto ripristinare l'importante riconoscimento per premiare il variegato panorama culturale siciliano d'eccellenza. Il premio Riviera dei Marmi, che abbiamo voluto riesumare dopo i 50 anni, appunto dall'ultima edizione, quindi dal 1968, è frutto di una sinergia tra diversi istituti culturali di altissimo profilo siciliano. La fondazione Buttitta, la fondazione Piccolo di Calanovela, l'Asso Stampa regionale e ovviamente in sinergia con il comune di Custonaci insieme si sono individuate quattro figure per motivazioni diverse che in questa prima edizione, nella nuova prima edizione appunto del primo Riviera dei Marmi abbiamo ritenuto opportuno riconoscergli questo premio. I premiati sono il professore Tommaso Romano, che persona più qualificata di lui non ci potrebbe essere per spiegare questa liaison tra il premio di 50 anni fa e quello appunto dei giorni nostri, attraverso una ricostruzione storica. Ma anche Elvira Terranova, che proprio in questo contesto di Regina Pacis, quindi di faro di pace nel Mediterraneo, si è contraddistinta qualche anno fa per aiutare fisicamente dei poveretti appunto che sbarcarono a Lampedusa e grazie al suo intervento sono stati salvati, tanto è vero che è stata riconosciuta di un incomio da parte del Presidente della Repubblica. E poi a seguire due figure importanti dal punto di vista culturale che sono legate al territorio di Custonaci e sono Vilman Cusenza, che è il direttore del Messaggero, quindi il quotidiano della Capitale, e la regista Emma Dante. Entrambi per una scelta di vita sono molto legati alla città di Custonaci.